O ne abbiamo già fatti un po', non ti preoccupare. Mi hanno chiesto entrando qua in molti cosa avesse a che fare questa platea con i lavoratori e vorrei dire a quelli che se lo domandavano che probabilmente questa è una platea di lavoratori e da qui forse... E da qui forse bisognerebbe trarre un altro filo che è quello che un lavoratore è anche un cittadino. È un cittadino che trae la sua cittadinanza, la sua identità, la sua voglia di essere anche dal lavoro che fa e dal volere che quel lavoro sia riconosciuto e ne siano riconosciuti i diritti. Ma perché allora c'è un rapporto tra questa platea, tra la domanda di dimissioni e questo Paese? Che idea c'è tra il rapporto dimettiti e la dimensione sociale? Io credo che quando diciamo che vogliamo che si dimetta per un Paese più giusto abbiamo in mente non solo la giustizia intesa per l'ordinamento della magistratura, ma abbiamo in mente la giustizia sociale, ciò che fa di ognuno di noi un cittadino. E allora perché diciamo che questo ha a che fare col chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio e del suo Governo? Perché sono due anni, forse più, che il tratto costante è stato quello di dividere le persone, di dividere i lavoratori da altri lavoratori, di dividere i cittadini italiani dai cittadini stranieri, di dividere gli uomini dalle donne, di dividere gli studenti tra quelli che possono studiare e quelli che non lo possono fare, di dividere i giovani dai loro padri, di decidere ogni giorno che giustizia sociale non ci poteva essere. Ci hanno costretto a guardare un povero come se fosse una sua colpa, a guardare una famiglia che non ce la faceva consumare come se fosse un perdente, a considerare il lavoro come invisibile e magari a pensare che la disoccupazione sia solo un numero, quello che viene recitato per poi dire che tutto va bene. E allora come si fa a dirgli di dimettersi? Io vorrei dire ricordando parole antiche, a cui bisogna ridare senso pieno, diritti, responsabilità, doveri, rispetto, l'idea che ci sono persone e non corpi separati dalle menti e che ci sono persone e non oggetti in vendita. E allora però dobbiamo parlarci anche tra di noi, perché c'è uno straordinario bisogno di unità, c'è uno straordinario bisogno di dire che c'è un altro paese che forse non è migliore, ma sicuramente vuole essere più giusto e quel paese però ha bisogno di ritrovare un linguaggio comprensibile. E allora io credo che anche tra di noi dobbiamo ragionare sul fatto che il linguaggio è slittato e che anche in questi giorni c'è un'insopportabile modalità di parlare di quello che sta avvenendo e c'è un insopportabile uso delle parole, per cui se bisogna parlare di un signore 74enne in realtà si parlano delle ragazzine 18enni e non di quel signore 74enne. E io vorrei che si tornasse a un linguaggio in cui sappiamo che parole usiamo e in cui ci rifiutiamo di usare certe parole come paragone costante delle cose serie che sono la vita di ogni persona. Perché è più facile parlare del velinismo per non parlare della responsabilità e della ricattabilità di un Presidente del Consiglio. E' più facile ragionare delle scorciatoie che io trovo sbagliate ma sono per la libertà, delle scorciatoie che qualcuno pensa di prendere per non parlare delle responsabilità di chi governa. Ma non è anche questo un modo per subire il potere e il fascino dei potenti, non avere più le parole per chiamare ogni cosa col suo nome e per avere il coraggio di dire che questo è un Paese che con la sessualità ha qualche serio problema e che ce l'hanno tanti uomini in questo Paese. E io vorrei dire che mi piacerebbe un Paese in cui le parole tornano normali e in cui parlare di sessualità è una cosa normale, perché così forse nessuno potrebbe più sentirsi richiamato dalla logica della complicità, dalla logica da bar, dalla logica della barzelletta, che è quella logica per cui noi, donne, non siamo più persone ma siamo oggetti da commerciare. E allora per me, che non a caso ho una sciarpa bianca al collo, e ne vorrei vedere tante tutti i giorni, nelle strade, nei luoghi di lavoro, in ogni posto, per me democrazia e libertà hanno anche un altro senso. Che è quello che non c'è democrazia e libertà se le persone non si possono sentire cittadini. Non c'è democrazia e libertà se mi si chiede ogni giorno di essere scissa tra il mio corpo e la mia intelligenza. Non c'è democrazia e libertà se si pensa che sia una vergogna essere poveri. Non c'è democrazia e libertà se sono un numero e non una persona. E allora perché democrazia e libertà? Perché ci sia un Paese più giusto. Bisogna immaginare un Paese che voglia il suo futuro. E allora io credo che le parole sono parte importante del ridefinire il futuro. Perché le parole sono quelle che tessono i fili tra di noi. Se non ci capiamo sulle parole, quei fili non li riusciremo a tessere. Ma siccome io penso che siamo tutti dei grandi tessitori, che il filo della giustizia, il filo della libertà, il filo della democrazia è per noi essenziale, cominciamo a tirare un filo da questa sala di oggi alle tante piazze del 13 febbraio, alle tante piazze che il sindacato porterà per il lavoro, alle tante piazze che continueranno a dirti dimettiti perché c'è un'Italia che crede al suo futuro e il suo futuro lo vuole. Grazie.